probabilmente in questi mesi le palazzine di via De Divitis e di via Domodossola potrebbero essere le sedi che ospiteranno gli alunni di ben 13 classi della scuola media delle Fiorentino che hanno lasciato l'istituto di via Pascoli in quanto sarà demolito e poi ricostruito in altra area così il soggiorno di emergenza alle Marconi potrebbe durare meno del previsto intanto c'è stato un nuovo incontro tra la sindaca Cecilia Francese e l'assessore all'istruzione Rosaria Caracciolo con una delegazione dei genitori del Fiorentino anche se non sarebbe emerso nulla di nuovo se non la massima attenzione da parte dell'amministrazione con risposte concrete alle richieste legittime ai genitori in merito all'ordinanza.